Si è aperto a Rimini il nono congresso nazionale della CISAL, Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, con lo slogan Il lavoro che non c'è. I lavori vogliono lanciare l'ennesimo richiamo al governo sulla assoluta priorità di una radicale riforma fiscale e di nuove relazioni industriali, perché vengano finalmente recuperate le risorse economiche indispensabili a dare credibilità e concretezza alle riforme e quindi alla crescita, all'occupazione e al lavoro che non c'è. Proprio per questo momento di difficoltà e di crisi abbiamo scelto questo tema forte per consentirci di dibattere ancora meglio e di trovare delle proposte concrete. L'abbiamo detto in tanti convegni, in tante proposte, per noi la riforma del fisco è quella prioritaria perché potrebbe consentire di risolvere tante problematiche che oggi i lavoratori hanno. Intanto l'Italia ha necessità di un piano di impresa, un piano di impresa che consente poi insieme alle organizzazioni sindacali di fare veramente quelle riforme perché è così e in questo modo il lavoro può davvero svilupparsi. Noi abbiamo dei dati, le voglio citare dei dati, siamo il primo paese ad avere il 70% dei beni culturali dell'UNESCO ma non riusciamo a concretizzare e questo il turismo potrebbe essere un'ottima soluzione. Ma l'abbiamo voluto fare a Rimini per dimostrare che per noi le regioni sono tutte uguali, una confederazione in via di sviluppo e si vuole rafforzare su tutte le regioni d'Italia.